che situazione è questa di caccia oggi? oggi non è tanto comoda tra l'acqua è comodo però si vede il caccia guarda che bel fungretto sotto la pioggia vai Aldo facci vedere la tua immagine e somiglianza eccoci qui sotto Cassandra ecco la donna sta nevicando? che ti ha trovato Aldo? un sollevatore di pesi vediamo questi sollevatori di pesi questo è il peso, abbastanza peso anche devo dire questi sono i sollevatori aspetta un attimo eh guardate bello, vai Aldo, va a farci vedere ma che mamma mia c'è un po' di gamba un bel gambino eh e questo che è piccoletto, sono piccoletto per modo di dire che è piccoletto è un po' di gamba una donna veramente in culo anche con questo terreno è un po' di gamba non è male, è un po' di gamba ragazzi, ma anche io con la neve le vengalo se non ci si salva bravo Aldo Aldo, ma neve oppure no? neve, neve fa freddino eh? anche freddo ieri di buono 120 gradi all'ombra e oggi neve Cassandra ma vaffanculo Cassandra va caro sempre portava male Cassandra ma gliela ha visto guarda eh? i funghi con la neve Antonio non dormienti eh un chilino di funghi eh dai vai, si ritrovano ancora qui Aldo si vede come porto funghi io questa emozione di fortuna eh? si vede si ti voglio far venire un fungo ottimo da mangiare fa vedere che la gente però non lo capisce addio ho fatto Cassandra non bello vieni a vedere va vieni qui giù basso tutto bianco allora la gente questi non li conosce vedi? sfumatura di gialla e gambo questi sono i portentosi portentosi sono degli ottimi funghi commestibili segui il portentoso Aldo guarda eh e vi fa vedere perché la gente non conosce i portentosi vieni fai vedere qui per terra guarda tutti i funghi scalzati tutto scalzato poi lì sono ancora alcuni piedi vieni vieni infatti guardate scalzano i funghi ma c'è qualcosa di bellino ecco il portentoso vero eccolo qui si buon cavalli bello eh vai avete visto il portentoso? eh vai faccelo vedere i funghi i funghi però i funghi però vanno seguiti portentosi belli eh ottimo fungo commestibili testatini con la neve segreti Aldo che mi cammino un attimo sulla strada Cammina, cammina, facci vedere proprio una vettura, una vettura, secondo me c'è anche il segno di partistrada. Probabilmente più a parte c'è la guerra. Occhio a fondi nell'acqua. Ci ammazzano, Aldo. Levalo, vai. Ti dà una sciacquatina nella posa? Ti dà una sciacquatina perché non so se ci sono passati sopra. La sciacquatina nella posa? La sciacquatina nella posa? Grazie a tutti. Oh, un saluto sotto la neve, eh? Alla fine ci ha truccato a prendere anche la nevecata. Perché c'era ancora dei bei funghi in circolazione. Però ragazzi, eh? Anche sotto la neve. No, non è finita perché la maremma ancora darà qualcosa. Vediamo. Ciao. Ciao. Cazzo, come che cascava, vaffanculo. La macchinina sotto la neve. Anche la telecamera, è ora l'ultima. Aldo. Riccchia, eh? C'è un freddo di forza. Ma è già una bella. Cazzo se deve fresco. Guarda come neve. Non so, una sega. Va bene, va. Ti metto in moto se avvia, va. Faccio un riscaldamento. Il riscaldamento è acceso. Sull'automatico non butto una sega. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Grazie a tutti.